Il Rosario è la vera devozione, Sant'Alfonso Maria degli Guori e San Luigi Maria Grignon da Monfort, tratto da Amiamo Maria di Don Guido Beretta. Gustare il Rosario Il Rosario fu detto la preghiera delle beghine, delle vecchie inebetite, degli ignoranti. Fu sprezzato e deriso e per questo è grande, perché ciò che è stolto per il mondo è grande innanzi a Dio. Vi è una connessione sostanziale tra il Santo Rosario e la conoscenza del segreto di Maria. Chi non ha gustato il Rosario non comprenderà neppure la vera devozione. Quando la Madonna incomincia ad accostarsi ad un'anima in modo più intimo e la chiama verso la perfezione, ella dona a quell'anima il gusto del Santo Rosario. Gusto che fa fluire dalle labbra l'Ave Maria, lasciandovi quasi in bocca un cotal sapore di cielo che inebri allo spirito, che fa della meditazione e dei misteri un bisogno del cuore che in essi si riposa, si esalta e si infervora. E gustando il Santo Rosario lo spirito si concentra e si raccoglie, la vita interiore si intensifica, l'amore per la mamma celeste diventa un dolce palpito continuo e vitale e non ti basterà più una sola corona. Divise a decine sentirai bisogno di due, di tre corone ogni giorno. Ti affezionerai al Rosario intero giornaliero con tutto il suo poema di gioia, di dolore e di gloria, con tutti i conforti ineffabili che dona al cuore, con i cento e cinquanta gemiti che l'anima, quasi colomba nascosta tra i forami della pietra, lancia verso l'amata regina. Il Rosario nella preparazione e nella pratica della vera devozione Quando dunque vorrai ottenere dalla Madonna la grazia segnalatissima di essere introdotto nei segreti della sua vera devozione, Attaccati al Rosario, masticalo, forse lo troverai dapprima un po' pesante, un po' aspro, non lo lasciare, intensificale la recita, scrutandone con ansietà santa i misteri, bevendone gli insegnamenti, così finché lo gusterai, finché ti diventerà una necessità. Allora riprendi tra mano gli scritti del San Luigi Grignone da Montfort, comprenderai quello che forse non hai compreso, una luce nuova ti riscanerà nella lettura, misteri insospettati ti si manifesteranno, bellezze sconosciute ti apriranno il cuore, e tutto in grazia del Santo Rosario, comprenderai e salirai, ed anche nella pratica della vera devozione il tuo successo sarà sempre proporzionato all'affetto che tu porterai alla bella e meravigliosa preghiera. Un santo sacerdote misurava il suo fervore dal suo attaccamento al rosario. Recitiamolo sempre. Utilizza tutti i tempi liberi della giornata. Le decine possono stare separate l'una dall'altra. Incomincialo subito alla mattina. Proseguilo durante il giorno. Chiudi con la sua recita le tue fatiche giornaliere. Nell'aridità, nelle tenebre spirituali, nelle stanchezze della volontà, nelle ripugnanze dello spirito, ti sentirai tentato di lasciarlo. No, mai. Recitalo piuttosto meccanicamente. Sforzati quanto è necessario. Ma non lasciarlo mai. È un segreto di vita. Conduce alla vera devozione. Ne è l'emblema. Ne conserva lo spirito, ne assicura i frutti. Affetti Oh, Regina del Santo Rosario, datemi un amore intenso per questa grande devozione, che io non lo lasci mai, perché ad ogni grano che scorre tra le mie dita è un cuore che si apre alla speranza, un'anima che si rialza, un trasalire di spiriti che si fa sentire fino al cielo. Perché il tuo Rosario, Maria, è la regina delle devozioni e non si può concepire che un'anima abbia fatto dei progressi nella vita spirituale senza l'abitudine di recitarlo. Padre Faber Perché è la catena d'oro che ci lega a voi, o dolce padrona, e per voi a Gesù. Santo Alfonso, Maria del Liguori, studiando i segni di perseveranza, conclude che, ve ne è uno solo sicuro, la preghiera continua, ma poi si chiede spaventato Vi sarò io fedele? A questo timore risponde gettandosi nelle braccia di Maria. Ed è il ricorso a Maria, è la conclusione di tutta la teologia di questo santo dottore. Quando arrivato alla sua estrema vecchiaia, non si ricordava più se aveva detto il Rosario, lo domandava al frate infermiere. Un giorno questo gli disse Vorrei avere io tutte le corone che vostra paternità ha recitato in più oggi. Allora il santo prese un'aria grave e rispose Fratello, non scherzare, non sai che da Rosario dipende la mia salvezza eterna? San Luigi Grignano a Monfort è il Rosario. Questa devozione, di cui doveva diventare dopo San Domenico e il Beato Alano il più grande propagatore, gli fu instillata fin da piccino dalla mamma e vi fu fedelissimo fino alla morte. Lo si vedeva sempre con la corona alla mano seminare le ave marie sicché il popolo lo soprannominò il padre della grande corona. La Vergine Santissima con prodigi di grazie gli rivelò come il Rosario fosse un mezzo ammirabile di conversione e di perseveranza. Quante parrocchie furono completamente trasformate con questa pratica. Quando le missioni sembravano fallire radunava le donne, faceva loro recitare il Rosario e ben presto i peccatori accorrevano alle prediche. Con quale eloquenza egli sapeva inculcarne la recita e stabilirla ovunque andava. Quando era riuscito in questo più non temeva dell'esito della missione e considerava il Rosario come il mezzo infallibile per conservarne il frutto. Sapeva invece per esperienza che le parrocchie le quali non vi si conservano fedeli ricadevano ben presto nei primitivi ed in peggiori disordini. Per farlo meglio comprendere Gustare ricorreva anche a espedienti scenografici. Compose un metodo speciale per recitarlo. Scrisse il segreto ammirabile del Santo Rosario. Il Rosario predicato era per lui come per San Domenico il grande mezzo per convertire gli eretici. La sua corona lo seguì nella tomba e gliela si trovò ancora fra le mani quando fu esumato il suo corpo. Beato te se la morte ti coglierà col rosario in mano.